Ciao a tutti, iniziamo a parlare di aritmetica modulare. Si tratta di riprendere cose che ho già trattato in un video precedente. Lascerò il link al video in questione nel quale ho introdotto il concetto di congruenza modulo n. Stavamo parlando di relazioni di equivalenza e ho introdotto la congruenza come relazione di equivalenza. Ed è stato dimostrato che la relazione di congruenza è una relazione di equivalenza. Perciò quando scriviamo che a è congrua b modulo n, che si può scrivere anche in questo modo, stiamo dicendo che n divide a meno b, dove questi sono numeri interi. Essendo una relazione di equivalenza vi è associata una funzione. Questa funzione va da z a un insieme che contiene 0, 1, 2 eccetera eccetera fino a n meno 1 e in pratica a un certo numero intero associa uno di questi elementi e questo è il resto di z nella divisione per n. E sulla questione del resto tornerò tra poco. Intanto, essendo una relazione di equivalenza, abbiamo delle classi di equivalenza e l'insieme quoziente di cui ho già parlato è definito z n ed è proprio l'insieme dei possibili resti della divisione per n, quindi è il cosiddetto insieme delle classi di resto. Perciò è definito come la classe di 0, la classe di 1, fino alla classe di n meno 1. Pertanto questo insieme ha n elementi. Scriviamo in questo modo una generica classe. Questa scrittura rappresenta il fatto che la classe di equivalenza è data dagli z più n k con k appartenente all'insieme degli interi. Naturalmente poi vedremo degli esempi. Torniamo a parlare del resto che ho indicato qui dicendo che quando scrivo a con gru a b modulo n sto dicendo che a e b hanno lo stesso resto nella divisione per n. Quindi vediamo proprio questo teorema che dice che due interi a e b sono congrui modulo n se e solo se hanno lo stesso resto nella divisione per n. Cioè io scrivo a come q per n più r, scrivo b come q' per n più r' ma r ed r' sono uguali. Quindi l'ipotesi è che a sia congruo a b modulo n, la tesi è che r è uguale a r'. Ovviamente a, b, q, q', n, r, r' sono tutti numeri interi. Anzi n lo prendiamo in n star. Dimostrazione. Qui c'è un se e solo se. a è congruo a b modulo n se e solo se r uguale a r''. Quindi dimostriamo prima la condizione sufficiente. Cioè partiamo dall'ipotesi che a sia congruo a b modulo n. Che sappiamo vuol dire che n divide a meno b. Cioè a meno b è un multiplo di n. Perciò possiamo scrivere che a meno b è uguale a n per un certo k. Chiaramente k intero. Allora dal momento che a è uguale a q per n più r e qui scriviamo che a è uguale a n k più b possiamo uguagliare i secondi membri dell'uguaglianza di a. Cioè q n più r uguale a n k più b. Però b lo abbiamo scritto come q' n più r' perciò qui abbiamo q n più r uguale a n k più q' n più r'. Ora posso raccogliere n a secondo membro e ottengo q n più r che è il nostro a è uguale a n che moltiplica k più q' più r' affinché il primo membro sia uguale al secondo membro qui abbiamo n che moltiplica un certo q perciò per noi questo è q e poi abbiamo più r e qui più r' quindi diciamo che q è uguale a k più q' e che r è uguale a r' che era quello che ci interessava condizione necessaria partiamo da r uguale r' allora a meno b è uguale a q n più r che a meno q' n più r' che però essendo uguale a r scriviamo r e questo in parentesi è b. Togliendo le parentesi abbiamo q n più r meno q' n meno r quindi questo meno questo vanno via e otteniamo che a meno b è uguale a q meno q' che moltiplica n questo è un numero intero chiamiamolo h perciò abbiamo che a meno b è un multiplo di n cioè a è congruo a b modulo n il fatto che la congruenza di due numeri interi modulo n possa essere espressa come uguaglianza tra i resti nella divisione per n da parte di questi due numeri interi fa sì che si possa lavorare con le classi quando si parla di congruenze un lemma ci dice che la congruenza modulo n è compatibile con le operazioni di somma e prodotto che vuol dire che noi possiamo scrivere che a congruo a b modulo n e c congruo a d modulo n implicano che a più c sia congruo a b più d modulo n questo vale anche per il prodotto quindi partiamo sempre da a congruo a b e c congruo a d e possiamo concludere che questa volta a per c sia congruo a b per d modulo n dimostriamo le due affermazioni ricordando che a congruo a b modulo n significa che esiste un k intero tale che a meno b è uguale a k per n a volte trovate indicato b meno a ma non è un problema la congruenza è simmetrica facciamo lo stesso discorso per c congruo a d cambiamo lettera usiamo h e scriviamo che c meno d è uguale ad h per n devo dimostrare a più c congruo a b più d che vuol dire a più c meno b più d è un multiplo di n chiamiamo z questo numero abbiamo quindi a più c meno b meno b meno d e andando a vedere queste due scritture possiamo riorganizzare quanto scritto qui come a meno b più c meno d quindi a meno b è k n c meno d è h n cioè abbiamo che a più c meno b più d che era il primo membro è uguale a un n k più h k più h lo chiamiamo z e abbiamo proprio quello che volevamo dimostrare dimostrazione 2 è del tutto analoga questa volta dobbiamo far vedere che b per d meno a per c è uguale sempre a un nostro z per n visto che a meno b uguale a k per n e che c meno d uguale ad h n scriviamo a come k n più b e scriviamo c come h n più d e sostituiamo abbiamo b d meno a c diventa b per d meno k n più b per d meno k h n al quadrato meno k n di meno b n h meno b d e allora questo e questo vanno via raccogliendo via raccogliendo n oppure raccogliendo anche meno n non è un problema meno k h n meno k d meno b h è uguale a b d meno a c perciò abbiamo espresso b d meno a c come n che moltiplica un numero intero d'altra parte questo è un numero intero vi faccio vedere una proprietà che non dimostriamo che se a per c è congruo modulo n a b per c e il massimo comundivisore tra c e n lo chiamo d abbiamo che a è congruo a b modulo n fratto d caso particolare se il massimo comundivisore è uguale a 1 ovviamente dividere per 1 rimane modulo n perciò a c congruo a b c modulo n nel caso che il massimo comundivisore tra c e n sia 1 cioè che i due numeri siano coprimi questo ci dà che a è congruo a b sempre modulo n quindi vale in questo caso la legge di cancellazione come se noi appunto qui semplificassimo le c e ora vediamo le operazioni con le classi di resto che poi vuol dire operazioni in z n iniziamo con la somma o addizione la somma delle classi è la classe della somma quindi prendiamo la classe di equivalenza di a e la classe di equivalenza di b questo è uguale alla classe di a più b questo più è un'operazione che conosciamo è la somma in z perché noi qui facciamo la somma tra a e b che sono numeri interi e ne prendiamo la classe ovviamente la scrittura equivalente è questa non la riporto perché è più comodo utilizzare la notazione con la barretta sopra però a seconda dei testi si può trovare una notazione piuttosto che un'altra il problema qui è capire se c'è un problema di buona definizione cioè la somma di due classi non deve dipendere dalla scelta dei rappresentanti di ciascuna classe ricordando che come abbiamo visto in precedenza la classe di a la possiamo vedere in questo modo e la classe di b in questo modo con ovviamente h e k numeri interi possiamo provare a scrivere a classe di a più b classe di b come somma di a più nk classe più b più nh classe vediamo cosa succede che qui noi facciamo a più b più nk più nh classe e ci chiediamo questo è uguale a questo si tratta della stessa classe se la differenza tra i rappresentanti è un multiplo di n cioè se n divide a più b più nk più nh meno la somma di a più b quindi meno a meno b però si vede che questo equivale a scrivere che n divide nk più nh se raccolgo n il gioco è fatto sicuramente questo è vero perciò l'operazione è ben definita cosa vuol dire tutto ciò che ad esempio se noi siamo in z7 e z7 vuol dire che qui abbiamo la classe di 0 di 1 di 2 fino alla classe di 6 la classe di 7 sarà coincidente con la classe di 0 la classe di 8 con la classe di 1 e così via se io devo fare la classe la classe di 12 più la classe di 20 questo fa la classe di 32 se devo fare la classe di 5 più la classe di 13 questo fa la classe di 18 ora la classe è la stessa se la differenza tra i rappresentanti è un multiplo di n in questo caso multiplo di 7 la differenza è 14 che è un multiplo di 7 posso concludere che 32 classe coincide con la classe di 18 potrei anche verificarlo se qui abbiamo z7 0 1 2 3 eccetera eccetera qui abbiamo la classe di 7 arriveremo qui alla classe di 13 dobbiamo sempre sommare 7 quindi questo coincide con la classe di 14 se qui avevamo la classe di 5 visto che abbiamo fatto la classe di 5 più la classe di 13 la classe di 5 coincide con la classe di 12 quindi abbiamo questa corrispondenza e poi 13 più 7 fa 20 e quindi 13 coincide con la classe di 20 e allora 32 coincide con la classe di 18 infatti se noi qui abbiamo 18 aggiungiamo 7 abbiamo 25 aggiungiamo 7 abbiamo 32 ora qui sto facendo un esempio molto rapido e anche abbastanza intuitivo e senza scomodare particolari scritture matematiche quali sono le proprietà della somma intanto vale la proprietà associativa quindi presa una classe se gli sommiamo la somma di due classi otteniamo questa scrittura classe di quello che sta sotto se faccio prima la classe di a più b e poi gli aggiungo la classe di c ottengo questa classe la domanda è queste due classi sono uguali ma dal momento che in z vale la proprietà associativa quello che c'è scritto sotto il segno di classe è un'operazione che avviene in z quindi io qui sto facendo in z a più b più c e sappiamo che in z questo coincide con il fare a più b più c e quindi le due scritture sono equivalenti questo è uguale a questo per le proprietà ripeto di z e così si dimostrano anche le altre ovvero la proprietà commutativa io posso scrivere che la classe di a più la classe di b è uguale alla classe di b più la classe di a come lo dimostro per il fatto che la classe di a più la classe di b corrisponde per quanto abbiamo visto alla classe di a più b questa è un'operazione in z perciò dal momento che in z la somma è commutativa posso scrivere anche questa espressione che coincide con b più a classi e allora come vedete vale quanto abbiamo scritto qui perciò proprietà associativa e commutativa valgono visto che z n eredita da z una struttura che vedremo tra poco è abbastanza intuitivo che esisterà anche l'elemento neutro e l'inverso per quanto riguarda l'elemento neutro che viene indicato con classe di zero questa classe è l'identità in z n per la somma che vuol dire a più zero classi è uguale ovviamente alla somma di a più zero e quindi è uguale ad a come classi naturalmente per la proprietà commutativa vale anche che classe di zero più classe di a è uguale ad a esistenza dell'inverso ricordiamo cosa significa che se io prendo un'operazione star generica in un certo insieme che chiamiamo a e abbiamo quindi un elemento a che appartiene ad a grande e un elemento b che appartiene ad a grande questo b è l'inverso di a se vale questa relazione a star b uguale b star a è uguale all'elemento neutro se star è la somma l'elemento neutro sarà lo zero e b si chiama opposto se star è il prodotto l'elemento neutro sarà uno e b sarà l'inverso questo per ricordare quello che avevamo detto a suo tempo in video precedenti relativamente a operazioni strutture algebriche ora per quanto riguarda la somma se io faccio a classe più classe di meno a otteniamo a più meno a sotto il segno diciamo di classe e questo per le proprietà dell'addizione in z a meno a fa zero e quindi abbiamo la classe di zero questo vale per ogni a numero intero perciò diciamo che le classi di resto ereditano l'esistenza dell'opposto dall'insieme z esempio prendiamo z9 in z9 la classe di 7 è l'opposto della classe di 2 perché lo vediamo subito sommiamo la classe di 7 con la classe di 2 questo fa la classe 9 ma in z9 la classe di 9 coincide con lo 0 perché in z9 abbiamo gli elementi fino alla classe di 8 n meno 1 possiamo anche dire che 9 è congruo a 0 modulo 9 in z6 ad esempio la classe di 4 è opposto della classe di 2 perché la classe di 4 più la classe di 2 fa la classe di 6 e in z6 la classe di 6 corrisponde alla classe di 0 abbiamo quindi visto che valgono la proprietà associativa la proprietà commutativa esiste l'elemento neutro esiste l'inverso per quanto sappiamo delle strutture algebriche possiamo concludere che z n con l'operazione di addizione è un gruppo commutativo o detto anche gruppo abeliano per quanto riguarda la moltiplicazione possiamo andare un po più spediti perché si ripetono le stesse cose viste per l'addizione il prodotto tra le classi è uguale alla classe del prodotto scriviamo nuovamente a come a più nk e b come b più nh ci chiediamo se questo primo membro è uguale a questo secondo membro però io qui posso svolgere il prodotto e scrivere a per b più anh più bnk più n al quadrato hk classe e visto che due classi sono uguali se e solo se la differenza tra i rappresentanti è multiplo di n affinché si abbia questa uguaglianza facciamo ab più anh più bnk più n al quadrato hk meno ab dobbiamo avere che n divide tutto questo ora visto che ab meno ab fa zero qui abbiamo che n divide raccogliendo n hk stiamo dicendo n divide n che moltiplica questo sì perché questo è un numero intero ed è un multiplo di n e quindi n divide questo chiamiamolo z per n cioè abbiamo dimostrato come abbiamo fatto per l'addizione che queste due classi sono uguali e quindi risolviamo il problema della buona definizione l'operazione è ben definita ricapitolando le proprietà per quanto riguarda il prodotto abbiamo la proprietà associativa la proprietà commutativa l'esistenza dell'elemento neutro che in questo caso è la classe di 1 e poi abbiamo la proprietà distributiva del prodotto rispetto alla somma ovviamente anche questo andrebbe verificato ma non è particolarmente complesso basta qui scrivere questo sotto forma di classe che corrisponde a ripeto questa è un'operazione in z quindi possiamo fare per la proprietà distributiva in z questa operazione qui abbiamo la classe di a per b più la classe di a per c ma anche questo corrisponde alla stessa classe e allora in definitiva avendo verificato queste proprietà per la somma per il prodotto possiamo concludere che z n con le operazioni di somma e prodotto si dice anello commutativo unitario e questa è la stessa struttura di z vedremo però una situazione particolare nel prossimo video che in casi particolari per quanto riguarda il valore di n possiamo avere che z n diventa un campo però nel prossimo video dobbiamo ricordare i concetti di divisore dello zero elemento invertibile e introdurremo anche il concetto di nil potenza per poi vedere appunto la questione di z n come campo e vedremo insomma altre cose relativamente alle congruenze e alle operazioni nelle classi di resto pertanto io vi saluto spero che questo video vi sia stato utile non vi costa nulla lasciare un like io vi ringrazio e alla prossima ciao